What is the world happy to you? Ci sentiamo veramente disperati, soli, angosciati perché ci stanno tagliando il futuro, nel senso noi il futuro non ci sa più, non si vede, non si vede e soli perché non ci considerano, però attenzione che intendo per considerarci, non intendo finire sui giornali, sui telegiornali, non ci interessa, ci sentiamo soli perché questa legge comunque sia sta andando avanti, i politici stanno andando avanti e quindi ci sentiamo proprio impotenti e io sto manifestando per l'istruzione, per il mio futuro, non mi interessa grandi cose, voglio questo, non sto manifestando per legalizzare la droga, non mi drogo, non fumo, sto manifestando per l'istruzione. Più di così non sappiamo cosa fare, cos'altro fare, quindi io mi rivolgo a chiunque guardi queste interviste di un appoggio, semplicemente un appoggio perché essendo tanti, come si suol dire, si fa e quindi la soluzione è questa, un appoggio, informarsi, informandoci e insieme alla fine agire insieme. Grazie.